Ora c'è questa immagine che mi ha lasciato molto perplesso, non questa eh, questa. Cioè, prendere il viso di una ragazza, di un atleta, in questo modo vedete, non è bello eh? Immagino sia santuccio, non so, ma in tutti i casi, guardate, speriamo che Sky non sanzioni, vedete? Un modo per dire sarà una decisione mia, però a proposito di attenzione nei confronti degli atleti, insomma, non esagerare negli atteggiamenti.